Il professor Picasso ha avuto la grande idea di mettere al confronto due particelle, di queste particelle che fanno parte della fisica nucleare, mettendone una in fase praticamente statica, è vero, e l'altra invece facendola correre ad altissima velocità, vicinissima alla velocità della luce. E ha visto che l'una particelle, quella ferma, decadeva rapidissimamente. L'altra invece campava molto più a lungo. Ora, in termini più esatti, ci spiega il professor Picasso. Allora, l'esperimento consiste nel confrontare la vita media del muone a riposo, cioè a velocità quasi nulla, con la vita media del muone che decade in volo, cioè che si disindegra in un elettrone e in due neutrini in volo, quando questo muone ha una velocità prossima alla velocità della luce. Si tratta quindi di confrontare queste due relazioni, questi due intervalli di tempo, e vedere se veramente si comportano secondo la legge predetta da Einstein. Allora, prendiamo un protone che proviene dal protosincrotrone e che viene accelerato, questo protone viene estratto dal protosincrotrone, una macchina che accelera i protoni fino alla velocità prossima, alla velocità della luce, e questo protone si fa interagire su un pezzetto di lama, un pezzetto di beriglio non importa cosa, l'interazione potone-atomo di beriglio o atomo di rame, genera molte particelle, tra le quali i pioni, che sono i parenti del muone, i genitori del muone, esattamente, perché nel loro decadere, quando si disintegrano, generano i muoni che mi interessano. Come dicevo prima, questi muoni hanno carica sia positiva che negativa. Allora, questi muoni generati si introducono in un anello di accumulazione e la velocità dei muoni corrisponde a questo valore che avevo scritto, e stanno lì e girano. Ci sarà un certo momento, questi muoni decadranno. Uno decadrà, per esempio, il muone decade, scusi, in elettroni e due neutrini, il muone che decadrà qui genererà un elettrone che sarà misurato da questo rivelatore di elettroni, il muone che decade qui genererà un elettrone che sarà rivelato da questo rivelatore di elettroni e così via. E si misura, quindi, partendo dal tempo t uguale a 0, l'intervallo in cui, di tempo che il muone ha passato prima di decadere, quando si trovava a questa velocità qua. Questo valore t di mu, corrispondente a questa velocità v di mu, è dell'ordine di 64 milionesimi di secondo. In realtà si è misurato con una precisore... Una trentina di volte di più di quella che è la vita media del muone per. Esattamente, di quella che è la vita media del muone per. Come si è fatto nella misura del muone della vita vera e la ferma? Benissimo. Si è fatto in un modo differente da questo, quindi devo occupare il tempo di passare. Questo qui si è creato dei pioni che poi sono generati in muone e si sono portati in muone a riposo, cioè con velocità molto piccole, molto minori della velocità della luce, potrebbe essere qualunque cosa, potrebbe essere del carbonio, per esempio, e quando dopo un certo tempo decade in elettroni e si conta l'elettrone. E si trova che questa vita media non è più 64 milionesimi di secondo, ma è dell'ordine di 2,2 milionesimi di secondo. Quindi, come lei dice prima, ha vissuto una trentina di volte di più. Insomma, il mesone fermo vive meno che un mesone in movimento, perché il mesone in movimento ha un tempo diverso da quello del mesone fermo. Altra dimostrazione della teoria della relatività secondo cui il tempo non è un'idea assoluta, ma è relativo, dipende dalla velocità a cui una massa, un corpo, un'entità si muove.